Discarichi a cielo aperto a Battipaglia. Le guardie ambientali hanno riscontrato, dopo alcune segnalazioni, dei rifiuti di vario genere che hanno segnalato alle autorità competenti. Le zone colpite dagli incivili sono via Fosso Pioppo, via Fabbrica, la SP 175 Litorane, nel tratto compreso nel comune di Battipaglia. I rifiuti fotografati e segnalati dalle guardie per l'ambiente dovranno ora essere rimossi, si spera in tempi celeri dagli enti di competenza. Preoccupante è il rivenimento dei rifiuti nei pressi di un canalone che viene utilizzato per irrigare i campi nei pressi di aziende agricole e serricole. Anche in questo caso saranno necessari approfondimenti ed indagini per verificare se la spazzatura abbia potuto contaminare l'acqua.